Molti in questi giorni si stanno domandando la benedizione degli ulivi, come possiamo prendere l'ulivo benedetto che tradizionalmente viene portato in moltissime case nel giorno della Domenica delle Palme. Il comunicato dell'Arcidiocesi di Milano del 26 marzo 2020 dice La Domenica delle Palme sarà celebrata secondo la forma dell'Eucaristia del giorno, senza la processione con le palme e gli ulivi. La benedizione e la distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad una celebrazione successiva, al termine dell'emergenza sanitaria, che assuma il tono del ringraziamento, richiamando l'evento della fine del diluvio annunciato da una colomba con, nel becco, un ramocello d'ulivo. Quindi verranno benedetti gli ulivi, ma non la Domenica delle Palme, ma in un'altra occasione, al termine del coronavirus, quando potremo uscire dalle case. E questo gesto è molto importante, è stato appunto riletto in un significato nuovo. Come Noè e la sua famiglia e gli animali sono usciti dall'arca dopo il diluvio, assaporando una nuova libertà, così noi, dopo l'emergenza sanitaria del Covid-19, uscendo liberamente dalle nostre case, potremo prendere il ramo d'ulivo benedetto per annunciare una nuova libertà, ma soprattutto per trovare una nuova fraternità.